Sciopero generale oggi degli addetti al comparto chimico. Gli operai diretto e indotto della Versales si sono dati appuntamento davanti agli impianti per protestare contro il tentativo di vendita dell'azienda da parte dell'ENI. I lavoratori del sito Versales di Ragusa oggi sono qui, stanno facendo 24 ore di sciopero, stanno manifestando di fronte alle portinerie di Versales per dire no al piano di dismissioni della chimica che sta portando avanti ENI. ENI che ha deciso appunto di cedere una quota maggioritaria, si parla del 70% di quote ad un'azienda americana di dubbia valenza economica che non ci dà appunto prospettive di lungo periodo. Si parla di un rilancio ma il sindacato e i lavoratori hanno paura che invece siamo di fronte a una vera e propria svendita ed una fase appunto si apre una fase di dismissioni. Oggi i lavoratori sono appunto qui presenti proprio per dire no al piano di ENI, no alla dismissione della chimica e no alla gestione di quote maggioritarie di Versales. Stamattina aderiamo allo sciopero generale che si svolgerà in tutti i siti d'Italia a partire da Marghera, Mantua, Ravenna, Brindisi, Porto Marghera per dire no alla dismissione di questa società che in Italia ha circa 4.400 dipendenti. L'Ene sta attuando un piano a cui noi diciamo no perché sicuramente vedrà fra un po' di anni la chiusura di tutti questi cicli produttivi. Si stanno affidando la società a un fondo americano SK Capital con testa iraniana ed è solo una speculazione finanziaria. Al momento che questo fondo non riuscirà più ad avere introide utili da questi stabilimenti lascerà il paese e lascerà tutti i lavoratori in mezzo a una strada. Noi chiediamo che il governo, il governo nazionale si faccia carico di questa situazione perché il governo è ancora azionista al 30% dell'Ene. Il capo del governo nomina l'amministratore delegato di Ene che è descalzi e quindi il governo ci deve dare conto e ragione di questa situazione. Il governo si faccia carico di questa situazione anche come ha fatto con la SNAM con Cassa Depositi e Prestiti. Noi non molleremo. Oltretutto sul territorio di Ragusa abbiamo degli interessi particolari perché l'Ene da 50 anni continua a sfruttare il territorio e non può abbandonare i siti di Gela, di Priolo e di Ragusa come vorrebbe fare in questo momento. La manifestazione nasce per il dissenso diffuso che c'è in tutta Italia riguardo alle scelte scellerate di Ene sulla vendita della propria azienda di base, è avvero la Versalis. Ene si è messa in testa di uscire totalmente dall'asset industriale italiano portando avanti solamente pensieri che hanno un riscontro finanziario e volendo diventare un broker, un vero e proprio scambiatore d'affari di petrolio e gas nel mondo, ovvero un commerciante. La notizia a cui bisogna dare risalto è che dopo 30 anni fermano le produzioni di olio e gas in Sicilia. È un fatto storico a cui bisogna dare rilievo. Per la prima volta Ene scende ad un accordo con la prefettura di Caltanissetta, la sumdele ganga del prefetto di Ragusa per fermare le produzioni di Enimed. È un fatto veramente storico a cui bisogna dare risalto, ovvero viene rinnovato il principio cardine della democrazia italiana secondo cui i lavoratori hanno il diritto di poter esercitare la loro libertà di sciopero.